Bene carissimi amici, bentornati a questo ciclo di catechesi, chiamiamolo così, sistematico sulla Divina Volontà, che si va ad aggiungere a quelli a suo tempo già terminati, perché l'esigenza di molte persone che si accostano a questo mondo è proprio di poter focalizzare in maniera puntuale alcuni aspetti generali, specifici. All'inizio di questa nuova puntata del ciclo di catechesi è appunto girare nella Divina Volontà, che chiaramente affronta uno degli argomenti tipici e propri della Divina Volontà, così come rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo alla serva di Dio Luisa Piccarreta, cioè come si gira nelle opere della Volontà Divina. Ricordo brevemente quali sono gli altri cicli di catechesi sistematiche, perché ci sono tante persone che me lo chiedono in continuazione, quindi se qualcuno ne ha bisogno e sente questa puntata faccio un attimo una sintesi. Ce ne sono 4-5 già in giro. La più importante, perché quella che cerca di fare una panoramica completa di ciò che è il dono della Divina Volontà, si chiama appunto il dono della Divina Volontà. Sono 58 catechesi, sono tante, che si trovano sia su YouTube, dentro l'omonima playlist, che sulle mie solite piattaforme podcast. Dopo di questa fu fatta in maniera analoga a questo ciclo, perché fatta sugli scritti composti dal caro Don Pablo Martin, che si è imbarcato proprio nell'impresa di fare una collaxio di testi su argomenti specifici. Un atto tipico del vivere nella Divina Volontà è il fondersi nella Divina Volontà, quello che significa fondersi nella Divina Volontà. Circo di Catechesi, fondersi nella Divina Volontà, dove si commentano tutti quanti i testi che parlano dell'atto di fusione e degli atti di fusione. Poi siccome vivere nella Divina Volontà significa ripristinare in larga parte, se non proprio del tutto, ma in larghissima parte, la condizione che aveva l'uomo nel momento in cui fu creato da Dio, quindi prima che cadesse nella colpa e nel peccato d'origine, c'è un altro ciclo di Catechesi che si chiama Adamo e la vita nella Divina Volontà, che è una raccolta di scritti sempre redatta da Don Pablo, che mostrano tutte le volte che Gesù ha parlato negli scritti della condizione di Adamo prima del peccato originale. Il ciclo si chiama Adamo e la vita nella Divina Volontà ed appunto è il numero 3. Questo è il numero 4 che si occupa appunto dei giri nella Divina Volontà, adesso cominceremo subito. Oltre a questo ci sono anche un ciclo di Catechesi ormai completi che è un commento all'opera La Vergine Maria e il Regno nella Divina Volontà, nel Regno della Divina Volontà scusate, che è l'unico scritto che è stato direttamente dettato, questo ricordiamo, dalla Madonna in persona come forme di riflessioni per il mese di maggio. Anche lì sono 37 o 38 Catechesi dove una per una tutte quante le istruzioni della Madonna vengono lette e commentate. Ovviamente insieme a questo ci sono tutte quante le meditazioni perché il Signore aveva voluto, presumo, insomma, mi ha fatto capire che era il caso di farlo. Mi sono imbarcato nella impresa di meditare tutti i singoli scritti dal primo al 36, quindi leggendo i brani e commentandoli in forma di meditazione, quindi come se fosse una meditazione mattutina per cercare di approfondirle, di fissare i punti. Su YouTube si trova un'unica playlist di quest'ultima cosa che si chiama Meditazione sulla Divina Volontà perché non ho avuto lì l'accortezza di distinguere, come ho fatto invece nelle piattaforme podcast tra i primi 10 volumi e gli altri, perché i primi 10 volumi sono preparatori ai discorsi che Gesù fa esplicitamente e tecnicamente, diciamo così, sulla Divina Volontà. Quindi nelle piattaforme podcast si trova questa distinzione, ripeto, non su YouTube. I primi 10 volumi sono sotto il podcast come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo. Dall'undicesimo volume in poi fino a quello che attualmente al momento in cui sto facendo questa catechesi, cioè il 16 febbraio 2022, siamo arrivati al ventisesimo volume, quindi dall'undicesimo volume in poi il podcast si chiama Vivere nel Fiat Supremo. Chiedo scusa se ho fatto questa rassegna, però siccome ogni tanto mi arrivano mail, telefonate e oppure anche interventi a volte in diretta, insomma, dove mi chiedono queste cose, mi sembrava opportuno fare una piccola recapitulazione. Detto questo andiamo avanti. Questa dovrebbe essere credo la quattordicesima puntata, ma non è tanto importante di questo ciclo. Ovviamente anche questo ciclo di catechesi si fonda su un testo che è appunto girare nella Divina Volontà per dare alla Maestà Suprema il ricambio d'amore ad ogni atto. Anche questo chiaramente da chi è stato redatto, da Don Pablo Martin, che penso che sappiate, almeno per quanto mi riguarda, essere un punto di riferimento per quanto riguarda questo mondo. Don Pablo conosce queste cose, forse da 50 anni o forse anche qualcosa, sì, da cinquantina d'anni, insomma, quindi ci ha lavorato una vita, ha fatto raccolta anche delle preghiere. Se si visitano i suoi siti web, insomma, si trova una montagna di roba. Ecco, quindi lo ringraziamo e ne beneficiamo insomma di queste sue fatiche, innanzitutto facendole conoscere e poi evidentemente apportando nel mio povero piccolo tributo quelle righe, diciamo così, di commento e o tentativo di spiegazione che cerco proprio veramente di fare e di dare. Allora, oggi siamo arrivati del testo, nella mia versione digitale, siamo alle pagine 48 e 49, quindi siamo più o meno, a poco meno della metà. Il testo è di 111 pagine nella versione digitale. E siccome qui siamo arrivati a un testo, qui Don Pablo avrà sicuramente dei suoi criteri di composizione perché non segue l'ordine cronologico, non è che parte dal primo volume e va fino al 36, per esempio qui abbiamo il volume 14, il brano successivo è dal volume 17, quello successivo ancora è dal volume 27, ma poi ritorna indietro al volume 23, quindi avrà seguito un suo criterio particolare che io al momento non lo conosco, però seguiamo l'ordine del testo che così sicuramente i brani li vediamo tutti e non ci sbagliamo. Allora, volume 14, 28 marzo 1922, tutto ciò che Gesù fece sulla terra sta in continua attitudine di darsi all'uomo. Chi vive nel volere divino, intrecciandosi con l'operato dell'umanità santissima di Gesù, dà al Padre la gloria per ogni creatura e per ogni cosa creata. Continuando il mio solito stato, stavo tutta fondendomi nel santo volere del mio amabile Gesù e lui mi ha detto, figlia del mio volere, se sapessi i portenti, i prodigi che succedono quando ti fondi nel mio volere, tu ne resteresti stupita. Senti un po', tutto ciò che io feci sulla terra sta in continua attitudine di darsi all'uomo, facendogli corona. I miei pensieri formano corona intorno all'intelligenza della creatura. Le mie parole, le mie opere, i miei passi, eccetera, formano corona intorno alle parole, alle opere e passi loro. Affinché intrecciando le cose loro con le mie, possa dire al mio celeste Padre che l'operato loro è come il mio. Ora, chi prende questa mia attitudine continua? Chi si fa intrecciare dal mio operato con cui coronai tutta l'omana famiglia? Chi vive nel mio volere? Come tu fondevi i tuoi pensieri nel mio volere, i miei pensieri che ti facevano corona, sentivano l'eco dei miei nella tua mente e immedesimandomi insieme con i tuoi moltiplicavano i tuoi con i miei e formavo doppia corona intorno all'intelligenza umana ed il Padre riceveva non solo da me ma anche da te la gloria divina da parte di tutte le intelligenze create. E così delle parole e di tutto il resto. E non solo da parte delle creature. Il Padre riscuote questa gloria divina ma da parte di tutte le altre cose create perché tutte le cose create furono create per far correre continuo amore verso l'uomo e l'uomo per giustizia dovrebbe dare per ogni cosa creata omaggio, amore al suo creatore. Ora chi supplisce a ciò, chi fa suo quel fiat per cui tutte le cose furono fatte per diffondere su tutto un omaggio, un'adorazione, un amore divino al creatore chi vive nel mio volere. Quasi ad ogni parola fa suo quel fiat ogni potente l'eco del fiat eterno fa eco nel suo fiat divino in cui vive, si diffonde, corre e vola e ad ogni cosa creata vi imprimmo un altro fiat e ridono al suo creatore l'omaggio, l'amore da lui voluto. Questo lo feci io quando stetti sulla terra. Non ci fu cosa per cui io non ricambiai al mio divin Padre da parte di tutte le creature. Ora lo fa, lo voglio, lo aspetto da chi vive nel mio volere. Se tu vedessi com'è bello vedere in ogni tremolio di stelle in ogni goccia di luce del sole la gloria mia, il mio amore la mia profonda adorazione è unita alla tua. Oh come corre e vola sulle ali dei venti riempiendo tutta l'atmosfera percorre le acque del mare si pogge in ogni pianta in ogni fiore si moltiplica ad ogni moto è una voce che fa eco su tutto e dice amore, gloria, adorazione al mio creatore. Perciò chi vive nella mia volontà è l'eco della mia voce la ripetitrice della mia vita la perfetta gloria della mia creazione. Come non devo amarla? Come non devo dare a lei tutto ciò che dovrei dare a tutte le altre creature insieme e farla primeggiare su tutto? Ah, il mio amore si troverebbe alle strette se ciò non facessi. Allora amici abbiamo visto in questo brano Gesù che tratta di due aspetti fondamentali di questo modo nuovo perché questa è una cosa nuova in parte come vedremo di imparare a pregare nella divina volontà cioè la fusione e il giro. Nella prima parte se sapessi i portenti i prodigi che succedono quando ti fondi nel mio volere chi si fa intrecciare dal mio operato con cui coronai l'umana famiglia chi vive nel mio volere come tu fondevi i tuoi pensieri nel mio volere i miei pensieri che ti facevano corona eccetera eccetera quindi queste sono tutte quante fusioni non commento troppo a lungo queste cose perché rimando al ciclo di catechesi fondersi nella divina volontà. Nella seconda parte è chiaro che quando vengono presi questi brani già questi sono fatti con le forbici questo sicuramente non è tutto il brano del 28 marzo spesso è così quindi il lavoro che ha fatto Don Pablo che non soltanto li ha raccolti ma ha anche cercato di mettere soltanto di quel certo brano quello che parla dell'argomento in questione questo che è un lavoraccio veramente impressionante comunque non facciamo troppi panneggirici perché dopo diventano eccessivi nella seconda parte però ci sono questi giri che probabilmente io adesso non ricordo tutte quante le catechesi precedenti quando si parla dello stesso argomento è inevitabile che ci siano delle ripetizioni ma le ripetizioni fanno molto bene ho detto tante volte che chi studia la lingua straniere o chi approfondisce la lingua straniere ricordi che prima che un vocabolo questo è scientifico gli si fissi nella testa dovrà almeno ripeterlo per 30 volte e non nello stessa giornata non è che nella stessa giornata lo prende e lo pronuncia per 30 volte perché il giorno dopo si era scordato ci sono delle applicazioni io le conosco ne do per alcune per tenere un attimo fresca la mente su tante questioni che hanno proprio fatto delle trattazioni come dire delle tecniche scientifiche cioè tu ti vai a formare gradualmente un vocabolario e poi c'hanno degli algoritmi chiaramente predisposti che ti ripresentano un vocabolo a certe determinate cadenze distanziate nel tempo per formarti la memoria breve e a lungo periodo fino a quando cioè quel vocabolo a un certo punto ti si deposita nella memoria a lungo termine e prima che te lo scordi ci possono dire anche dieci anni ma tu a questo non ci arrivi se non ripeti 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 no? è fondamentale perché il nostro intelletto le nostre facoltà superiori in questo mondo funzionano così ecco perché anche negli scritti del libro di cielo sembra che a volte sembra che a volte Gesù si ripeta ritorni quante volte per esempio parla del sole o di questi giri e dice sempre come si fanno perché dobbiamo tornare rientrare riprendere ribadire fissare il grande segreto ecco del progresso spirituale sta proprio in questa capacità di essere metodici costanti lasciarsi anche un pochino ammaestrare no? tutte le cose furono create entriamo nella parte tecnica di questa sera tutte le cose furono create per far correre continuo amore verso l'uomo e l'uomo per giustizia dovrebbe dare per ogni cosa creata omaggio amore al suo creatore allora il giro ce lo siamo dette tantissime volte è un andare girovagando tanto dove ti giri ti giri a cercare e prendere quel particolare amore che attraverso quella certa cosa creata il Signore ti ha donato mi sono dimenticato prima nel dire un pochino di cose che ho messo a disposizione anche per per la Divina Volontà perché poi c'è anche tutta quanta la parte che riguarda le preghiere e qui YouTube non c'è ci sono soltanto i podcast quindi chi vuole entrare in contatto con queste cose deve scaricare o Spreaker o Spotify o Google Podcast o Apple Podcast imparare a farli funzionare e poi a beneficiarli siccome molta gente mi diceva ma come si fanno questi giri allora i giri sono sempre assolutamente personali perché qui si tratta di imparare cioè sei tu che devi dare a Dio la soddisfazione che vedi un raggio di sole e che pensi di quel raggio di sole che cosa stai percependo che ti dice il Signore con quel raggio di sole che cosa ti sta trasmettendo che cosa ti comunica tu glielo devi dire io sento questo io avverto questo e ne devi imparare a godere e devi imparare a ringraziare a ricambiare quell'amore con un amore simile e uguale devi farlo a modo tuo però per dare un'idea a parte il fatto che c'è il Pio Pellegrinaggio dell'anima nell'operato della Divina Volontà che se qualcuno non ha tempo di mettersi anche di quelli ho registrato un podcast quindi tutte quante 24 le ore del Pio Pellegrinaggio della Divina Volontà se uno vuole si mette le cuffiette scarica il podcast e con sottofondo musicale se li sente lì ci sono tutta una serie nella prima parte sono tutti quanti i giri nel Fiat Creante cioè nelle opere della creazione poi ci sono anche dei bellissimi esempi di giri nel Fiat Redimente cioè nelle opere compiute da Gesù bellissimo nella parte centrale e anche poi dei giri una specie di un po' di piccole ore della passione in piccolo nelle ultime ore e ci sono anche dei giri nel Fiat Santificante perché a un certo punto ci sono dei passaggi dove vanno a essere toccati i Sette Sacramenti per esempio ecco io di queste cose qui qualcosa ho messo in giro non tantissime però c'è un podcast che si chiama Giri nel Fiat Creante uno che si chiama Giri nel Fiat Redimente uno che si chiama Giri nel Fiat Santificante non ci sono tantissimi giri ce ne saranno 6-7 nel Fiat Creante 4-5 nel Fiat Redimente e 4-5 nel Fiat Santificante non ne ho fatti troppi perché lo scopo di queste cose è appunto di essere una esemplificazione perché ripeto il giro è una cosa molto personale quindi anche un giro che viene messo in pubblico non è un vero giro nel senso che non possiamo noi esternare perché sono cose sacre per esempio i nostri affetti o il nostro amore che abbiamo nei confronti del Signore quindi diciamo che sono quelli sono dei giri un pochino chiamiamoli così un pochino scolastici nel senso che devono aiutare chi ascolta a farsi un'idea di come si potrebbe fare come quando uno comincia a pregare che fa la meditazione è chiaro che c'ha bisogno di un testo che ti spieghi come si faccia la meditazione ma poi la meditazione la devi fare tu ti ci devi mettere tu la Divina Volontaria l'ho detto tantissime volte è proprio un'occasione un trampolino d'oro per imparare a pregare perché la preghiera è l'arte delle arti la cosa più importante cioè se non impariamo a fare bene questa cosa il rapporto con Dio non sboccia quindi rimane la nostra fede o la nostra religiosità molto come dire formale di facciata esteriore oppure quasi esclusivamente mediata attraverso le forme sacrosante che il nostro Signore stesso ha scelto che sono le riti le liturgie i sacramenti stessi e che sono ovviamente fondamentali ma non possono avere vita esclusiva a fianco a questa dimensione appunto mediata istituzionale rituale comunitaria ci deve essere anche una dimensione personale vanno insieme non ne va unilateralizzata nessuna delle due perché altrimenti o si cade nell'intimismo nell'individualismo oppure però si cade anche nel formalismo e nell'esteriorità cioè gente che magari sono 30 anni che va in chiesa ma non ha mai pregato in senso forte cioè si ha detto qualche preghiera vocale forse con la testa per aria e basta e poi ha risposto alla messa si è fatta la comunione magari prende la comunione prende la particola come se fosse un gesto meccanico se fosse una cosa magica va lì apre la bocca capita sta particola va a posto comincia a stare con la testa per aria manco che dice ciao al nostro signore può succedere questa cosa qui no qui no allora continuo amore verso l'uomo il giro ti consente proprio di cominciare a mettere in pratica delle cose fondamentali perché tutte queste cose che Gesù ha detto non sono conoscenze accademiche tanto per sapere qualche cosa di nuovo insomma di alternativo no sono tutti quanti input alla pratica a metterle in pratica lettera di San Giacomo apostolo oggi alla messa di oggi dice cioè dinanzi alla parola di Dio non possiamo essere soltanto ascoltatori smemorati tra l'altro ma dobbiamo metterle in pratica questo vale doppio sentire questa catechesi per esempio non serve a niente se poi tu qualche giro non provi a farlo d'accordo magari sulla base di quello che hai sentito perché non è come dire una come dire ripeto un fatto accademico questa non è una conferenza erudita d'accordo quindi dove c'è una spiegazione no queste cose servono a metterle in pratica allora Gesù ti dice c'è un amore continuo di te di Dio verso l'uomo in tutte le cose create tutte e nessuna escluse qui ne fa soltanto alcuni esempi io per esempio nei podcast mi pare che ho fatto un giro nel sole un giro nelle stelle un giro nella pioggia o altro un giro sui monti un giro nel mare ma queste sono soltanto alcune delle stelle anche mi sembra le galassie sicuramente queste sono soltanto alcune cose ma poi si può cioè se uno per esempio adesso esce e vede una margherita appena andrà a fiorire uno può prendere una margherita e solo su una margherita farci un giro da paura no cioè perché poi si possono personalizzare d'accordo perché un conto è fare il giro sulla margherita un conto è farlo sul tulipano un conto è farlo sul papavero un conto è farlo sul giglio sulla rosa perché cioè è perché ciascuna di queste cose poi c'è un suo peculiare un ti amo distinto siamo anche tutte quante le simbologie sacre il giglio e la rosa per esempio sono due fiori che sono mariani al 100% uno dei due per esempio il giglio è anche il fiore di San Giuseppe perché rappresenta la virginità quindi cioè capiamo quindi anche la simbologia religiosa che è stata fatta di alcune cose ti fa già capire che dietro quel fiore Dio ci ha messo qualcos'altro che non semplicemente la conformazione fisica morfologica del fiore quindi l'aspetto i colori eccetera bene ora Gesù dice tutti questi atti d'amore attenzione l'uomo per giustizia dovrebbe dare per ogni cosa creata omaggio e amore al suo creatore cioè dire quanto sei grande signore che hai fatto una cosa così bella questo è un omaggio io ti lodo ti benedico ti ringrazio ti adoro poi lo prendo quell'amore e ti ricambio e ti amo per questa cosa che hai fatto grazie perché l'hai fatta per me nella sagra scrittura parlavo un pochino di tempo fa personalmente con Don Pablo Martín ci ci sono dei prodromi se uno per esempio prende il cantico dei tre giovani nella fornace che si trova nelle lodi della domenica benedito per tutte del Signore il Signore lo dato ed esaltatelo nei secoli benedite angeli del Signore il Signore benedite cieli il Signore benedite sole e luna il Signore benedite stelle del cielo il Signore quello è un giro quello lì bellissimo giro cioè i giovani che poi hanno scritto questo canto quindi è diventato parola di Dio a disposizione di tutti hanno prestato la voce a tutto il creato per lodare il Signore è un giro il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi è un prodromo è ovviamente un bellissimo giro d'amore se uno vuole andare a prendere anche qualche altro esempio chi fa suo quel Fiat per cui le cose sono fatte per diffondere su tutto un omaggio un'adorazione un amore divino al suo creatore voi pensate che Luisa faceva dalla mattina alla sera queste cose e quella è stata rinchiusa dentro casa senza mai uscire per 38 anni di seguito quindi pensiamo noi che abbiamo la fortuna spero che la mettiamo in pratica non stiamo tutto il giorno tappati dentro casa cioè di andarsi a fare veramente un giro all'aria aperta quindi se uno vive in città poverino accontentarsi di qualche parco sperando ce ne sia qualcuno se uno vive un pochino fuori gli va un po' meglio i sensi possono aiutare adesso inverno c'è qualcuno che va sulla neve l'estate c'è qualcuno che va a montagna al mare quindi a contatto diretto anche con queste cose questo è un aiuto non è indispensabile perché Luisa ha fatto giri su giri per 38 anni senza mettere il naso fuori dalla porta di casa quindi stando in una stanzetta piccolina e dentro un letto quindi dice ma quindi lei non è che per 38 anni di che cosa ha goduto cioè vedeva la luce del sole attraverso la finestra ma magari che ne so la bellezza del mare non l'ha vista mai in 38 anni però faceva i giri nel mare li faceva sicuramente per lei e per tutti allora fare questa operazione ripetiamo sempre le stesse cose però fa niente produce degli effetti spettacolari perché tutta questa montagna di amore che la divina volontà ha depositato in ogni cosa creata rimane lì inerte e morta se tu non te la vai a prendere riconoscendola come tale però perché tutti gli uomini godono della luce del sole ma quasi nessuno gode dell'amore della divina volontà depositato nel sole perché gode di questa cosa quindi prendendola come realtà di fatto il sole c'è benissimo c'è la luce poi la sera non c'è sta più e buonanotte ma non è che vedo una bella giornata e dice ah signore mio ti lodo ti amo ti benedico e ti ringrazio per questa meravigliosa creatura che hai fatto per questi raggi che illuminano il mondo che danno la vita alle piante ai fiori che consentono la vita sul pianeta terra che d'estate mi danno quel profondo senso di calore di tepore e se mi espongo a quelli per i patiti della bronzatura mi fanno pure colorare la pelle divento pure più bello addirittura pure queste cose si potrebbero santificare nella divina volontà sicuramente senza nessun dubbio quindi questo è fare il pieno d'amore divino per accident posso dire che la meditazione di questa mattina su un bravo del volume 26 faceva particolare riferimento a questo fatto qui quindi l'importanza di fare il pieno dell'amore divino e poi di ricambiarlo perché Dio è contento se tu apprezzi quello che ha fatto riconosci quello che ha fatto lo adori per quello che ha fatto lo benedici lo ringrazi e lo ricambi in altrettanto amore questa è la vita nella divina volontà allora Gesù dice io quando stavo sulla terra detto in questo brano io l'ho fatto quando stetti sulla terra non ci fu cosa per cui io non ricambiai al mio divino padre e da parte di tutte le creature perché Gesù l'ha fatto non solo per sé ma l'ha fatto per tutti gli esseri umani perché attenzione questa è una cosa importantissima tante volte ne ho parlato si trova negli scritti attenzione che nella sua vita terrena Gesù ha fatto per ciascun essere umano per ciascun istante della sua vita tutti gli atti che avrebbe dovuto fare perché perché anche se molti esseri umani disgraziati e ingrati non rendono grazie a Dio e qualcuno se l'andrà pure all'inferno più di qualcuno attenzione però la divina giustizia qui dice Gesù l'uomo per giustizia deve dare omaggio e amore al suo creatore ma la divina giustizia non tollera che ci sia quella situazione di ingiustizia per cui se esiste un tizio che sicuramente esiste che in tutta la sua vita non rivolge mai un pensiero all'altissimo per dirgli grazie questa è una cosa che non può essere e allora Gesù cosa ha fatto ha rifatto tutti gli atti di tutti gli esseri umani perché nella vita di quel tizio cioè la vita di quel tizio è già stata completamente rifatta da Gesù tu dici come ha fatto calma amici miei cioè Gesù è stato veramente uomo ma Gesù era un uomo Dio quindi aveva una capacità operativa chiaramente attingibile dalla sua natura divina nella sua vera umanità però che non c'è dato di poterle immaginare del resto lui si è fatto 30 anni di vita nascosta molta gente si chiede ma che cosa sta a fare 30 anni di vita nascosta soltanto a far fare igname cioè no Gesù lo spiega negli scritti a quanto ha fatto in quei 30 anni di vita nascosta perché in quei 30 anni di vita nascosta veramente ha rifatto tutti gli atti tutti gli atti di esseri umani poi durante la vita pubblica c'è pure insomma da cooptare l'attenzione alla predicazione ai miracoli agli esorcismi alla chiamata degli apostoli della formazione degli apostoli ma quei 30 anni oltre al lavoro manuale che ha santificato e alla vita familiare ha rifatto tutti gli atti di tutti certo tu dici ah vabbè ma se la fatti Gesù quindi pace no perché sia Gesù e anche la Madonna ha fatto la stessa cosa e anche Luisa spiega Gesù negli scritti ha fatto la stessa cosa quindi ci sono tre un uomo Dio l'immacolata e la prima figlia della divina volontà che hanno già rifatto per tutti e infatti quando noi facciamo un giro basta semplicemente dire ricambio con il mio ti amo per me e per tutti cioè nel giro quindi facciamo un pochettino di ripasso teorico il ricambio di amore va fatto non soltanto a titolo personale ma c'è sempre una triplice dimensione cioè prendiamo il sole prendo l'amore ricambio l'amore ma siccome il sole non parla e quindi non può lui stesso ricambiare con il suo ti amo chi lo ha fatto per tutte le perfezioni che gli ha dato lo faccio io per lui quindi il ti amo il ti adoro e ti ringrazio si mette nella creatura stessa come gesto di chiamiamola sostituzione vicaria io che sono intelligente e godo della tua bellezza ma capisco qualcosa anche della tua bellezza intrinseca per te ringrazio il signore non solo siccome molti esseri umani non diranno mai grazie a Gesù per il sole glielo dico io per tutti e noi possiamo farlo cioè pur essendo io un povero peccatore un povero essere umano possiamo farlo perché perché se ti unisci alla divina volontà soltanto il fatto di starci unito immediatamente ti rende compresente a tutta la dimensione del tempo e tutta la dimensione dello spazio quindi presente passato e futuro e qualunque cosa che esiste in tutto quanto l'universo creato da quando Dio è Dio e per sempre questa è l'immensità della divina volontà allora per questo Gesù conclude dicendo se vedessi com'è bello vedere in ogni tremolio di stelle in ogni goccia di luce del sole la gloria mia il mio amore la mia profonda adorazione unita alla tua quindi mano a mano che le persone imparano a fare questa cosa vanno semplicemente a riunire i propri atti a quelli che Gesù ha già fatto e moltiplicano e moltiplicano e moltiplicano in continuazione come corre vola sulle ali dei venti vedete quindi qui sta parlando possibili giri nel sole nel vento nelle acque del mare in ogni pianta in ogni fiore e che cosa succede? cosa vuole sentire da noi il Signore? amore gloria adorazione al mio creatore spero di essere chiaro poi dato che stasera per la prima volta con questo ciclo di catechesi siamo in diretta Telegram se qualcuno non avesse capito qualcosa può fare qualche domanda così abbiamo il bello della della diretta leggiamo un altro brano c'è un altro pochino di tempo è breve anche quest'altro e poi ci fermiamo stavolta siamo nel volume 17 21 maggio 1925 il vivere nel divin volere è non lasciare mai solo il suo creatore ammirare tutte le sue opere e dargli ai suoi atti grandi piccoli atti di creatura giro nella divina volontà per far compagnia con il mio atto alla divina volontà vengo a costituirmi atto per ogni atto della tua volontà questi titoli sono per quanto ne so Don Pablo stesso oltre che a scrivere che a tradurle e a rimetterli diciamo così in in formato scorrevole e ha dato anche i titoli poi come se mi volesse sollevare e raffermare nella sua santissima volontà mi ha preso la mano nella sua e mi ha detto vedete come il brano comincia sicuramente da un certo punto no? perché viene sempre scelto quella parte del brano che interessa all'analisi che stiamo facendo no? figlia mia vieni a fare il tuo giro nella mia volontà quindi Gesù esorta questa cosa qui vedi la mia volontà è una ma scorre come divisa in tutte le cose create ma senza dividersi spettacolare guarda le stelle e ricominciamo l'azzurro cielo il sole la luna le piante i fiori i frutti i campi la terra il mare poi finisce tutto e tutti in ogni cosa c'è un atto della mia volontà e non solo c'è un atto ma si è rimasta la mia volontà come conservatrice del mio stesso atto in ogni cosa creata ora la mia volontà non vuole restare solo nel suo atto ma vuole la compagnia del tuo vuole il tuo ricambio io tante volte ho chiosato commentato questa espressione dicendo tutti quanti ricorderemo la celebre frase di Paolo e Francesca nell'inferno dantesco amor l'amore esige il ricambio dell'amore è proprio intrinseco da un lato l'amore è per antonomasia gratuito perché l'amore è amore quando si offre si dona a prescindere dalla risposta è però è gratuito però vuole essere ricambiato perché l'amore che va da una direzione sola non ha ragione di essere perché l'amore è sempre una cosa che richiede un tu richiede un rapporto reciproco e questo vale anche per Dio e per le cose che ha fatto Gesù lo dice in tutte le salse possibili e immaginabili cioè lo farlo fa presente in tantissime forme variegate sfumature di ogni genere allora perciò ti ho messo nella mia volontà affinché tu faccia compagnia agli atti miei ed insieme con la mia volontà tu vorrai ciò che voglio io che cosa vuole il Signore anzitutto che ogni creatura faccia ciò per cui è stata creata queste sono mie glosse riprendo la citazione del testuale insieme con la mia volontà vorrai ciò che voglio io che le stelle che le stelle lucchino che il sole riempie di luce la terra che le piante fioriscano che i campi biondeggino che l'uccello gorgheggi che il mare mormori che il pesce guizzi questo vuole la divina volontà insomma vorrai ciò che voglio io e la mia volontà non si sentirà più sola nelle cose create ma sentirà la compagnia dei tuoi atti perciò Gesù lo dice a Luisa ma lo dice anche a noi gira per ogni cosa creata e costituisci di atto per ogni atto della mia volontà è questo attenzione il vivere nel mio volere queste sono quelle volte in cui Gesù lascia le frasi a effetto perché ce le ricordiamo non lasciare mai solo il suo creatore uno due ammirare tutte le sue opere ammirarle e tre dargli i suoi atti i piccoli atti di creatore ripetiamo è questo il vivere nel mio volere non lasciare mai solo il suo creatore è possibile per noi fare questo qui cioè notte e giorno noi non siamo mai lasciati soli nessuno pensi mai che che Dio ci lascia solo anche per un solo millisecondo lui è sempre in un certo senso con noi vedete che c'è un senso generale dell'essere con noi nel senso che non ci perde mai di vista è sempre al nostro fianco per aiutarci per per muoverci per ispirarci e poi c'è il senso forte no? che è quello con cui fu salutata la Madonna il Signore è con te cioè con te nel senso che è con te nel senso che si proprio compiace di quello che fai perché è contentissimo con te no? facciamo un giochetto no? contento come formato con te ento vuoi ci sta no? quindi essere con te significa è contento di te magari ma anche se non è contento a con te ci sta lo stesso certamente in una forma differente ma tu stai con lui? punto interrogativo o stai con la testa per aria o stai centrato su te stesso a farti tutte le tue recuperazioni i film a perdere un sacco di tempo con un sacco di pensieri o di chiacchiere inutili o stai a pensare a quello che fanno gli altri a fare a farti gli affari degli altri per criticare per giudicare eccetera eccetera o stai con lui vita nella divina volontà è anzitutto non lasciare mai solo il suo creatore ci sono dei passaggi anche nelle ore della passione dice per esempio quando quando Gesù commenta il fatto di di Erode no? c'è sta un sacco di gente che anche tra i ministri consacrati che amministrano sacramenti fanno cose ma io rimango sempre solo questi non lo fanno per me non lo fanno per amore mio è tutta una manfrina è tutta una messa in scena io rimango sempre solo le chiavi dei tabernacoli che clicchiano a volte mi vengano aprire anziché per darmi la gioia di stare con me per darmi un altro po' di croci e di sofferenze no? non lasciare mai solo il suo creatore ammirare tutte le sue opere noi stiamo stiamo in ammirazione continua ma pensate cioè adesso continuiamo a fare un po' di esempi qui Gesù ha fatto le cose create classiche no? le stelle il sole le piante gli uccellini i campi il mare i pesci tutti i soggetti di giri diciamo così no? però per esempio i pesciolini ce li mangiamo o no? se uno si mangia un bel piatto di calamari o di gamberi giro subito subito quando uno sta mangiando ricevo Signore Gesù il tuo ti amo da questa creatura dal gambero mentre tu stai gustando quel sapore particolare perché il gambero c'è un sapore particolare il sapore del gambero non è il sapore delle cozze delle vongole o degli scampi boh queste cose qui a quest'ora è un po' pericoloso però capiamo come si santifica anche l'atto del mangiare l'acqua che bevi il vino pensiamo poco al vino l'alcol sempre con molta moderazione mi raccomando però sapete soltanto in Italia quante infinite varietà di sfumature di vini che ci stanno pensiamo a quante se ne è inventato il nostro Signore e bisogna ringraziarlo ti piace tanto il caffè pochi anche il caffè non troppi solo prende 10 caffè al giorno però 3-4 possono pure starci no ci hai mai pensato quando ti prendi un caffè di mettere un bel ti amo di dire al Signore guarda ti ringrazio che hai creato questa creatura è buonissimo il caffè mi fa sveglio è un piccolo momento bello nella giornata lo prendo dalle tue mani lo ricambio con il mio ti amo per me per tutti ci hai mai pensato ecco perché qui la fantasia poi quando stai camminando per esempio farsi attenti alla bellezza e alla perfezione del nostro corpo ci hai mai pensato questi sono pensieri santi da fare quando tu cammini i muscoli che si muovono il piede che sta a contatto col suolo fatti attento stupisciti anche di queste cose belle poter camminare è una cosa bellissima poter parlare è una cosa bellissima quando che ne so ci sono in certi momenti penso che ci erano fatti tutti quanti casi in certi momenti un po' particolari non soltanto quando siamo un pochino accaldati che aumentano i battiti cardiaci in certi momenti però avvertiamo il battito del nostro cuore subito un grande ti amo perché il cuore che batte è un prodigio dell'amore cioè noi siamo circondati in continuazione quando si accende una lampadina dicono ma la lampadina l'ha fatta l'uomo si la lampadina l'ha fatta l'uomo ma l'elettricità l'energia elettrica non l'ha fatta l'uomo c'è su tante volte parla negli scritti della della corrente elettrica no quando una persona ecco dice non lasciare mai solo il suo creatore adesso tutte queste cose possono sembrare un pochino meccaniche ma posso stare dalla mattina alla sera a pensare tutte queste cose cioè uno non è che che deve come dire pensare che dall'oggi al domani boom boom no però appunto la prima delle trentee delle trenta lezioni no tu adesso assumi queste queste informazioni le sai vedrai che se tu ci pensi un po' non te le lasci scivolare ogni tanto ti verrà in mente di farla questa cosa quando ti verrà in mente mi raccomando falla se riesci ogni tanto senza a porci un po' d'attenzione quindi te la fai venire in mente almeno qualche volta quindi facendo qualche qualche sforzo qualche piccolo sforzo Gesù chiamano gli scritti l'impegno dell'attenzione meglio ancora più ne fai e più ti verrà spontaneo farlo perché anche in questi atti del tutto peculiari si riproduce la legge generale della vita ascetica e di grazia che è questa cioè la virtù si acquisisce con la ripetizione degli atti più tu compi un atto di una virtù e più quella virtù ti verrà facile praticarla è con naturale meno la pratichi è peggio è così la stessa cosa vale per i vizi cioè noi siamo fatti così allora tu cominci a mirare tutte le sue opere questo è un fatto anche interiore no? adesso qualunque cosa farai cioè Dio ti benedica e ti conceda di farlo cioè qualunque momento una passeggiata il sabato o la domenica una vacanza vivila in maniera differente perché oltre che essere un momento di distensione poi diventa un momento di santificazione perché queste cose sono altamente santificanti perché facendo queste operazioni come Gesù spiega la vita stessa della divina volontà comincia a entrare dentro di te vivere nella divina volontà vuol dire come spiega Gesù che la divina volontà prende vita dentro di te ma come fa a farlo nella misura in cui tu la fai entrare in cui tu la prendi la accogli la fai entrare dentro di te e si fa così riconoscendola lodandola prendendone l'amore e ricambiandola fargli compagnia in continuazione la vita nella divina volontà è tutto come prima ed è niente come prima questo capita molto spesso nella vita cristiana tutto come prima che non è che che cosa fa cioè il mondo è sempre lo stesso la vita è sempre la stessa le persone sono sempre le stesse ma cambia il modo con cui io le guardo con cui io mi ci relaziono con cui io mi ci interfaccio con cui io le vivo quindi non lasciare mai solo il creatore ammirare tutte le opere e dargli i suoi atti e dare ai suoi atti grandi perché tutte quante le cose che Dio ha fatto sono grandi e i suoi piccoli atti di creatura il mio piccolo ti amo ti benedico ti amo ti adoro e ti ringrazio ma Dio è contento si è contenta di questo qua perché che cosa ci fa lui della mia piccolezza non lo sappiamo bene io sinceramente su questo qui però lo vuole per quanto tu possa essere piccolo non dimenticare mai che l'uomo lui lo chiama la mia bella stato il mio gioiello e questo vale per ogni essere umano perché ogni essere umano ha un'anima che è unica e ripetibile quindi attenzione il ricambio perché dobbiamo ma se tutti quanti moltiplicano questi ricambi d'amore che c'è bisogno che ci metto pure il mio perché il tuo ricambio d'amore ecco perché cioè qui senza cadere nell'individualismo c'è una grandissima personalizzazione cioè perché che atti piccoli darai tu al Signore per le varie cose che tu riconosci nella sua creazione come gliele dirai tante cose com'è il tuo modo da amare diverso da quello di tutti gli altri così come in paradiso ci avremo tutti quanti un rapporto del tutto peculiare con Dio il rapporto che c'ha con te e con me c'era solo con me e solo con te per quanto riguarda la mia personalità individua quindi anche se tutti gli uomini creati supponiamo una cosa che non è avessero fatto tutti quanti gli atti possibili e immaginabili e tu non l'hai fatto mancherebbe qualcosa mancherebbe qualcosa perché non hai fatto il tuo e nessuno capite tutte le persone che sono depresse che pensano ma ti pare che Dio sta a pensare a me io non valgo niente io non conto niente qua e là nessuno può dire una cosa di questo genere perché questa è falsa non è vero dove c'è un'anima e dove c'è una persona c'è un'anima non è che non conti niente conti tantissimo agli occhi di Dio perché Dio è attento alle singole realtà questo bisogna per ricordarlo Dio pensa a te che mi stai ascoltando come se non avesse niente altro da fare cioè tu devi calcolare che l'attenzione è il pensiero che è rivolto verso di te chiunque tu sia qualunque cosa ti abbia fatto è come se lui non ci avesse niente cioè l'unica sua attività fosse sta a pensare a te e questo lo può dire qualunque essere umano perché Dio ha questa capacità di essere tutto presente in ogni cosa che fa pur potendone farne infinite in contemporanea e questa è la differenza che c'è tra lui e noi in questo momento sto a fare questa cosa qui non mi posso certamente mettere a preparare contemporaneamente l'omelia per domenica prossima non lo posso fare perché già è tutto da dimostrare che ci stia bene con la testa qui ma non potrei assolutamente in contemporanea fare un'altra cosa quindi essere presente noi esseri umani abbiamo il grande impegno di essere sempre perfettamente presenti nella cosa che stiamo facendo nell'attimo presente e quello dobbiamo fare attenzione senza distrarci e senza farla malamente concludo finendo questo breve brano io non so come mi sono trovato in quel vuoto immenso di luce per trovare tutti quegli atti usciti dalla volontà di Dio e per mettere il mio contraccambio l'altro adorazione di lode di amore di ringraziamento e poi mi sono trovato in me stesso imparare a pregare in questo modo è bellissimo quindi io auguro a tutti quanti adesso questa nostra piccola conversazione è terminata ovviamente termina la teoria e poi rimane la pratica che tutti quanti certamente cercheremo nel nostro piccolo di fare ci vediamo alla prossima e che Dio vi benedica e la Madonna a tutti e sempre e vi benedica